Non deve impressionare ma 50 milioni di euro rappresentano una cifra equilibrata da richiedere al Ministero dell'Economia, quella preventivata per restituire una struttura solida a tutte le scuole cittadine, degna di essere chiamata sicura per chi le vive e ci lavora. Gli edifici di competenza di Palazzo Zanca ad uso scolastico sono tutti dotati di criticità, tutti sicuramente si trovano sotto alla lente di ingrandimento del management a Corinti ma non tutti necessitano di un'ordinanza di chiusura. Sull'argomento è stato chiaro l'assessore alla manutenzione immobili comunali Sebastiano Pino che ha confermato il sopralluogo stamattina alla scuola Tommaseo da parte del responsabile dei lavori per il ripristino dei solai, l'ingegnere Domenico Di Bella. In realtà l'istituto è stato escluso dal finanziamento da 90 mila euro che inserisce 18 scuole. La dirigente scolastica Rosalia Schirosi è confrontata con l'assessore fino a stamattina per far eseguire i rilievi alla Tommaseo. Il rischio crollo secondo i tecnici del comune non interesserebbe questo plesso ma intanto una notte dello scorso weekend è crollato un controsoffitto di un bagno utilizzato dai bambini. L'assessore cercherà di convogliare questa scuola negli interventi da 65 mila euro che verranno spalmati negli edifici fuori elenco. Genitori degli alunni della Tommaseo in subbuio perché non vogliono mandare i loro figli a svolgere i doppi turni. E ha parlato di una cifra sproporzionata da circa 50 milioni di euro per poter adeguare in modo sismico tutte le scuole di Messina. È una cifra veritiera? Ma probabilmente anche in difetto se noi pensiamo che adesso per l'adeguamento sismico della scuola Leopardi la gara è in corso di pubblicazione e lì si prevedono interventi per 1 milione e 400 mila euro. Quindi siccome quasi tutti i plessi scolastici avranno bisogno di un minimo di intervento, quindi sui 112 edifici scolastici cittadini presumibilmente 50-60 milioni preventivati non saranno forse neanche sufficienti.